La serata sarà, spero, piacevole, sarà grande. Ho visto un po' di prove delle esibizioni dei ragazzi che sono esibizioni da pop star. Negli ultimi mesi ha cantato Lady Gaga, Lenny Kravitz, Elton John e sono esibizioni all'altezza di questi nomi. I nostri quattro giudici accompagneranno il volere della gente ma decide tutto il pubblico da casa, quindi sarà una bella serata. Ospiti? Ospiti, faremo una bella apertura con i Sein Motel, faremo un po' di ballo con David Guetta, ci saranno Tiziano Ferro, Giannan Nini, Arisa, Malika Yan che oltre a cantare le loro canzoni canteranno con i nostri ragazzi. Tu sei Mario e secondo me non c'è un altro. Mario è una persona strepitosa, ti tira fuori gli abbracci, è molto umile, molto determinato. È stato bello poter tornare a casa e riacquistare un pochino i valori che in questa bolla, durante questo lavoro, un po' si sfumano. Cioè i valori tipo la famiglia, tipo l'amore, tipo gli amici. Ilaria ero convinto fosse molto timida fino a dopo la semifinale, quando sono entrato nel loft e ho visto un diavolo della Tasmania in viperino, è veramente molto divertente. Sei una scommessa. Che voglio fare, che voglio assolutamente fare, tu sarai nella squadra. Sono crescita tantissimo, sia musicalmente perché abbiamo lavorato con persone assurde e di un livello pazzesco, ma anche proprio umanamente. Lorenzo è il più sgamato di tutti, è quello già più capace anche di rapportarsi con la gente, cioè molto adulto. Io penso che tu sia la ciliegina sulla torta della mia squadra, anzi la fragola della mia squadra. Stare a vivere con delle persone che condividono la stessa passione e condividere con loro paure, ansie, storie, perché più ci conosciamo, più raccontiamo la nostra storia. Personalmente ho imparato da ognuno di loro, cioè degli altri concorrenti, qualcosa. Mad secondo me è un talento incredibile, c'è una sorpresa incredibile. Mad secondo me era uno del mio gruppo, dei preferiti fin dall'inizio, quando era partito molto criticato e vederlo crescere di puntata in puntata in questo modo è stato sorprendente. Ho scelto di prendere Maddi in squadra con me e mi spiace tantissimo, davvero. Io appena sono entrato nel loft ho pensato, ah qua c'è l'atmosfera giusta per poter lavorare, perché abbiamo trovato subito delle persone che ci hanno fatto sentire a nostro agio, subito. E poi penso che X Factor non sarebbe stato così bello se non ci fosse stato questo rapporto umano tra di noi, tra la redazione e tutti quelli che lavorano dietro. Ci sono stati anni in cui la finale era un po' un pro forma, era abbastanza evidente chi avrebbe vinto. C'è un favorito anche in questa occasione, ma è favorito di poco. Mentre in alcune altre stagioni c'era un abisso tra il primo e chi poi è arrivato secondo, in questo caso sono attaccati, potrebbe succedere di tutto. Io lo darei a Maddo, mi sa. Io lo darei a Ilaria. Anche io lo darei a Ilaria. Sapevo che i voti non erano, cioè i voti non è uno solo, sono tanti, sono quattro, quindi lo dato tutti a quattro vabbè. Grazie. Grazie.